Ciao a tutti, piccolo tutorial oggi per vedere più spesso la pagina. Siccome Facebook ha le sue preferenze e non sempre ci permette di vedere quello che noi vorremmo, allora andate sulla pagina delle notizie, il diario, cliccate sulla lineetta, le tre linee orizzontali, vedete che vi compaiono tutte queste selezioni, questi tassi da selezionare, saltatevi tutte e andate fino a impostazioni e privacy, cliccate, poi andate a tempo trascorso su Facebook, cliccate e vedete che vi compare preferenza per la sezione notizie, cliccate sopra ancora e poi andate su preferiti, su preferiti potete selezionare o deselezionare le pagine o comunque le persone che non volete più seguire, che non vi volete che compaiano più spesso e andate a cercare, in questo caso, qui potete scegliere sia gli amici che le pagine da vedere più spesso, andate a selezionare, in questo caso se volete, la pagina, la mia pagina. Adesso la cerchiamo brevemente, Alessio Chiadini, ecco, e fate su aggiungi, in automatico poi la vedrete ricomparire nella sezione preferiti, così, tecnicamente, dovreste riuscire poi a vedere più spesso le mie novità, ecco. Ok? Fatemi sapere se funziona. Ciao! Grazie a tutti!